Hello guys, Renderna here, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Allora, avevo detto che ci saremmo sentiti dopo ma il video era già venuto abbastanza lungo ho controllato prima di arrivare qua e ho preferito stoppare e fare due episodi Allora, dobbiamo posizionare il nostro bellissimo, la nostra bellissima pompa Allora, come facciamo? Tanto ci prendiamo questo tungsteno che è sempre importante, questo ferro No, no, il ferro no, va bene, abbiamo scherzato Facciamo così, mettiamo la pompa qui, così, perfetto Poi, cavolo, ho dimenticato, ho dimenticato una cosa importantissima Fermi che torno subito, fermi che torno subito Ok guys, allora, rieccoci Sono andato a fare questi I wooden waterproof pipe Adesso vi faccio vedere cosa servono Allora, lo piazziamo, ci mettiamo un blocco sotto di noi, così Poi mettiamo questo qui Questo lo sfondiamo E ci mettiamo il teleport pipe sopra Perfetto Poi facciamo così Pa, pa Pa e Pa Perfetto Allora, poi facciamo così Per attivarli Uno e due E uno e due Dovrebbero partire tutti, in teoria sì Perfetto, adesso vediamo se prende la lava In teoria dovrebbe andare tranquillamente Dovrebbe uscire lì Intanto, qua dobbiamo settarli Allora, io metterei lava E lo settiamo a Settiamo a 5 Lava Add Set Perfetto, vedete come va? Perfetto Adesso dobbiamo andare su E fare la stessa cosa In Sui tank Torno subito Ok guys, allora Eccoci di nuovo qui Facciamo così Ok Facciamo Pankete Pankete Facciamo Pankete E Cambiando i tubi Facciamo Lava Ok Reci Perfetto Ecco qui Vedete che adesso questi Arrivano Si dovrebbero riempire In teoria piano piano Esatto, si sta riempendo Adesso non so se lo metto anche qui E lo metto così Se va Però Però io dovrei No, facciamo Facciamo che lo togliamo questo Non ci serve Però adesso ne facciamo solo uno Scusate Quando ne riempiamo uno Facciamo Li facciamo tutti e due Adesso questo qua piano piano si riempirà di lava E poi ce la portiamo nel geothermal Che abbiamo lasciato a casa Allora scendiamo giù Nel nostro vecchio metodo Perfetto Ok E Diamo un'ordinata qua All'inventario Mio dio Mio dio Allora Fermi Fermi Allora Questi diamanti a posto Questo a posto A posto Questo a posto Ah il geothermal Perfetto Eccoli qua Allora Il geothermal Dove li mettiamo? Li mettiamo A questo punto forse ci conviene Metterli sopra Vediamo eh Poi in quella stanza Al massimo ci faremo Qualcos'altro Guys Allora Facciamo così Ehm Mi servono però Dei toby Di stone Per i liquidi Il tubo di stone E non di cobblestone Ma va bene Lo stesso Facciamo Eh 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 Facciamo così Facciamo pa Perfetto E pa Ok Qui abbiamo del ferro Ma troppo poco Qui abbiamo tanto ferro Ed è tanto Ok Basta così I coloranti ragazzi Non so dove sono Ma Li facciamo così Facciamo prima Perfetto Tutto quello che c'è Lo facciamo In questa maniera Qui Abbiamo i tubi Di stone Ok Fatto questo Allora Andiamo Andiamo a piazzicare Questi cosi qua E poi E poi Mi serve I cavi di Cavi d'oro Che colleghiamo All'mfm Quello possiamo farlo Anche dopo Allora Io direi Facciamo così Perfetto Ci mettiamo sopra Il geotermo Ok 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 E In teoria Se io metto questo qui E metto questo qui Dovrebbe uscire E non esce Perfetto Forse devo farlo da sotto Allora Devo farlo da sotto No 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 Non cadere Ok Così Vediamo E in teoria dovrebbe Ah forse Perché devo collegarlo Alla nostra Bellissima Cosa qui Allora Facciamo così Scendiamo un attimo Prendiamo Dei cavi Ce l'ho anche uno Già fatto Facciamo così Facciamo Non possiamo farli qua Dobbiamo fare Forza qui Facciamo così Facciamo 12 Facciamo Così Muoviti Muoviti Su Perfetto Adesso abbiamo 13 Mi sembrano Abbastanza Poi E al massimo Useremo I cavi in fibra Di diamante Però Non lo so Il gas Fiber Però Per adesso Dovrebbe andare bene Anche questo Ok Allora Se noi colleghiamo Questi Qui Dai Dai Ma Su Ah Camminiamo sulla staccia Da qui Forse Forse È il caso Allora C'è qualcosa Che non va Per chi non esce Aia Sono caduto nel buco Che io stesso ho fatto Ritorniamo su Ritorniamo su Muoviamoci Muoviti 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 Renna Su Muoviti il culetto Allora Facciamo così Perfetto Ah forse Forse ho capito Forse dobbiamo mettere Un tubo di stonna Sotto Anche per farlo Per farlo uscire Invece il tubo Quello lì Prea Tubo di stonna Tubo di stonna Tubo di stonna No 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 Ragazzi C'è qualcosa Che non Non riesco A far funzionare Non capisco il perché però Perché se da sopra entrano In quel modo lì Se da sopra entrano In quel modo lì Perché non riesco A farli funzionare Che bella domanda Cioè se io metto Perché forse Perché forse Scusate No No Perché così va Così va anche bene Forse devo Staccare qua Non devo farli attaccare Proviamo Proviamo Facciamovi fare un giro Così Minig drill In manina Facciamo fare il giro Così Minig drill Ancora in mano Puff 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 No No Niente Allora Vado a vedere un attimo Perché non funziona E torna Due secondi Ok guys Allora Ho capito Perché non funziona Allora Prima di tutto Mi è scoppiato un creeper Sopra Quindi dobbiamo Un attimo Rifarci La staccionata Dobbiamo farlo un po' Perfetto Bastano Poi dobbiamo fare Uno steam engine Ecco qui Allora Radella di Di legno Dobbiamo fare due Quindi To Due Perfetto Poi dobbiamo fare Pistone E mi serve altro legno Che non ho Almeno non ho qui Ma ho In una di queste ceste Perfetto Ok Allora Facciamo Questo Poi ci mettiamo Questo Questo Della cobblestone E via No aspettate Ne ho fatti due Va bene Ne devo fare uno Va bene Così Facciamo così E Scusate ancora La tosse guys Ma mi sta Davvero Distruggendo Le rotelline Qui E questo Sopra Perfetto Il nostro Steam Redstone engine E' andato Prendiamo anche La redstone torch E a questo punto Possiamo risalire Avevo fatto Un test Prima Stavo Controllando Se andava Nell'altro mondo E infatti Alla fine è andato In questo modo qui Perché io mi ricordavo Che i tubi erano giusti Ma ci mancava Effettivamente qualcosa Allora Aspettate un attimo Che chiudiamo Qui di nuovo Che ha fatto Puff tutto Non basta Dannazione Vabbè Lo metterei Qui Lo metterei Qui ma a questo punto Io cambierei La posizione Di questo tubo Scusate Me la faccio Comoda Me la faccio Davvero comoda Questo Lo togliamo Lo recuperiamo Anche Perché costano Bei materiali Sti tubi Perfetto E a questo punto Facciamo Così Così Ok E Così Adesso Vedete che Il motore inizia a partire La lava esce dal tank Che si sta riempendo Vedete Così pieno Sta riempendo Piano piano Bla 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 E va di qua E va nei nostri geotermal Che piano piano Si riscalderanno E inizieranno a produrre La nostra bellissima Energia elettrica Che Tanto ci piace E ci farà funzionare Tutti L'impiantino Mio dio ragazzi Ho fatto una strage Di tutto Anche Della mia Pazzia Però Sono contento Di esserci riuscito Un applauso Un applauso Per renna Per tutte le renne Che come me In questo momento Si sentono realizzate Via Andiamo a mettere Di nuovo questo a posto Poi chiudiamo il video Perché mi sa che è venuto Ultralungo Non vorrei tagliarlo Ma se è venuto Troppo lungo Già vi avviso Vi avviso Alla fine Ma comunque Ve lo dico Lo taglierò Perché Vi ripeto Non posso caricare I video Troppo lunghi E questo Motore qua Ma se poi lo giriamo Quando finisce Questa cosa qui Lo mettiamo di qua Intanto Questo dovrebbe andare a bomba In teoria Vediamo Se bomba il culo Sono spenti Però il nostro coso Qui è pieno Vediamo se lo Togliamo Se lo riempiamo Un po' Se funzionano Ok Oh Bello però L'ha riempito Abbastanza velocemente Perfetto Perfetto Ok io volevo proprio fare Questo bellissimo Impiantino Perché ci tenevo Particolarmente E adesso Abbiamo Decisamente Dell'energia In più Che possiamo Utilizzare Che questa cosa qua Mi fa veramente Paura Dannazione Datemi questa Dirt Facciamo così Edso Tuff Perfetto Via Adesso se io metto A cuocere No Cuocio il ferro Mi sembra Invece l'oro Mi sembra improbabile Ma se metto A fare così E a cuocere Vediamo Della polvere Della polvere Della polvere Questa Facciamo così Mettiamo A macerare Della tina A cuocere Questi Questa roba qui Così vediamo Come va Oh Già va molto meglio Contate che siamo Di notte Stanno lavorando Due macchinari Con Il Con Gli upgrade E soprattutto I Joterman Non sono ancora Alla massima efficienza Vediamo di giorno In teoria di giorno Dovrei riuscire A tenerli tranquillamente E infatti Si carica Perfetto Finalmente Guys Ce l'abbiamo fatta Allora Tra poco Allora Visto che siamo A posto Con l'elettricità Faremo Faremo Lo smistamento Cesto Quindi mi raccomando Non perdetevi Le prossime puntate Guys Io vi saluto Ci sentiamo Ci vediamo Al prossimo video Da rendirenna Mio dio Raffreddore Di M Da rendirenna È tutto Enjoy E che la rendirenna Sia con voi Bye Bye